Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 12 novembre 2011. Eletti, amici cari, chi confida in me non ha da temere, ma vive nella pace, pieno di speranza sempre viva. Sposa amata, già ti ho parlato a lungo, negli intimi colloqui, di quanto sia importante confidare in me, Gesù. Hai ben compreso le mie parole, piccola mia? Mi dici mi hai parlato a lungo, dolce amore, di questo argomento ed ho capito che molto può ricevere da te chi molto in te confida, poco chi poco confida, nulla chi nulla confida. Se tutti gli uomini confidassero pienamente in te, la vita sulla terra sarebbe un dolce passaggio verso il cielo perché, Gesù Santissimo, altro non chiedi che di aiutare ogni anima a raggiungere la felicità del Paradiso. Il tuo cuore è tutto amore, solo amore, sempre amore e vuole donare continuamente e mai togliere. Dolce Gesù, quando vedo tristezza sul tuo sublimissimo volto, capisco che è il momento di togliere grande è il tuo dolore. In questo presente accade, spesso, di vederti nella grande tristezza. Con l'adorazione continua vorrei un po' colenire il tuo dolore, ma poi penso sono solo uno scricciolo, che posso fare per il mio adorato Signore? Certo, poco. Capisco che grande è la pena del tuo cuore in questo tempo speciale, gli uomini, che dovrebbero essere ardenti di amore per te, sono sempre più freddi, tanto che il Padre caro ha mandato sulla Terra, in modo speciale, la Madre Santissima per scaldare i cuori e portarli al cielo. Sposa amata, ascolta bene le mie parole e trasmettile al mondo. Vedo le anime ardenti d'amore per me. Le vedo e le conosco ad una ad una sono quelle dei piccoli più piccoli della Terra. Sono queste anime che ottengono da me le cose più grandi per l'intera umanità, come anche quelle di fermare il tempo per dare la possibilità a popoli e nazioni di giungere alla conversione. Sposa cara e fedele, sono proprio gli scriccioli della Terra quelli che sostengono il mondo, il nemico infernale li teme, in modo speciale, perché gli tolgono potere. Uno solo di questi scriccioli è come un esercito schierato. Sposa cara, vedrai accadere tante cose e capirai i limiti dell'azione del terribile nemico, che vorrebbe tanto, ma sta perdendo potere e poco può, proprio per la presenza sulla Terra dei miei strumenti d'amore e si costituiscono una barriera alla sua azione nefasta. Questo dico Beato l'uomo che da me, Dio, si è lasciato plasmare in modo speciale ed ora un mio forte condottiero sarà al mio seguito e combatterà la grande battaglia, che terminerà col trionfo del mio cuore e con quello della Madre mia Santissima, sarà vittorioso con me che sono l'Eterno vittorioso ed entrerà nella mia gloria. Non così sarà per colui che mi ha resistito triste ed amara sarà la sua fine. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore, che mai avranno fine. Ti amo. Biamo Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, sia ogni giorno un canto d'amore per Dio e col suo sentimento amate i fratelli e l'intera creazione. Capite che Dio ama ogni uomo, e che per amore lo ha creato, sapete che ama l'intera creazione e vuole che anche voi l'ammiate e la rispettiate. Figli cari, l'intera creazione soffre e geme in attesa della restaurazione. Tutto, figli, cambierà, ma nulla si distruggerà, perché Dio crea sempre e mai distrugge. L'intera creazione è in attesa. Gesù con la sua resurrezione ha cambiato tutto e con lui, per lui, in lui sarà ogni cosa. Mi dice la mia piccola madre cara, le tue parole sono di grande sublimità, ma anche difficili da capire nel loro intrinseco significato. Dolce tesoro, sempre ci incoraggi e ci doni nuova energia con la tua presenza. Vedendo ciò che accade, il cuore si spaura e trema, ma ecco che nelle tenebre fitte del mondo sorgi tu, madre, come la stella più fulgida la tua luce illumina ogni cosa ed indica una strada da seguire. Ogni uomo vede la strada che deve percorrere ma, spesso, la sua vista viene offuscata dal peccato, divenuto un fiume che, rotti gli argini, invade ogni angolo della terra. Dolce tesoro, tu sei onnipotente per grazia ottieni, dal Figlio Santissimo ottieni la vittoria del bene sul male in questo momento della storia così unico e speciale. Se ne vada il terribile nemico, se ne vada nel suo abisso di disperazione, se ne vada a mani vuote, perché gli sono sfuggite tutte le anime, tornate a Dio. figli amati, ciascuno di voi si impegni a fondo, ciascuno operi attivamente per il trionfo del bene sul male. Siate quei serbi fedeli, figli cari, che operano, attivamente, anche vedendo intorno gli inetti. Il padrone, tornando, li loderà ed essi saranno nella più grande felicità. Figli cari del mondo, fate bene ogni cosa, fate a modo per avere, poi, da Gesù, il premio più lauto quello di poterlo godere per l'eternità. Insieme, stretti, vicini, cuore con cuore, l'odiamolo, ringraziamolo, adoriamolo. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio. Maria Santissima.